Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui sul mio canale, benvenuti ladies and gentlemen in quella che sarà una nuova serie del canale. Stiamo parlando, come avete letto dal titolo, di Rise of the Tomb Raider, la 20 Year Celebration, almeno questa qui è quella che ho, io non so se sia diversa da un'edizione standard, ma non penso, penso che l'unica differenza sia che praticamente il contenitore, la custodia, questa qui è di scapire di una custodia normale con anche immagini e quant'altro, insomma cose illustrative e fogliettini vari che adesso sono cascati. Signori, Rise of the Tomb Raider, perché Rise of the Tomb Raider? Visto che è un giochino abbastanza datato, appunto perché è abbastanza datato, io questo qui l'ho ricevuto quando comprai la Playstation 4 con un bundle che c'era, Rise of the Tomb Raider e qualche altro gioco. Devo essere sincero con voi, Rise of the Tomb Raider, questo titolo qui non l'ho neanche mai installato da allora, se non in questo momento. Siccome adesso i titoli un po' scarseggiano, ho deciso di approfittarne e giocarmelo, avevo già avuto parecchie volte la voglia in passato, ma poi non l'ho mai iniziato perché comunque non sapevo come mettervelo sul canale. Invece forse ho trovato il modo, se voi state vedendo questo video sappiate che io in realtà il gioco l'ho già finito, ma io in questo momento preciso ancora lo devo iniziare, ma l'ho già finito perché vedrete tutti quanti gli episodi, non dico uno al giorno, ma probabilmente i giorni dove di solito non ci sono le altre serie, quindi il giovedì, il sabato ed il lunedì alle 18, probabilmente vi vorrei mettere un episodio di Rise of the Tomb Raider in modo da non intaccare altri video e io li carico, tanto adesso me lo spolpo, me lo levo con tranquillità, non so quando voi vedrete mai questo video. Signori però, l'intro si è già protratta per molto e direi di andare con la schermata di gioco, anche perché si protrarrà per tanto, penso che conoscendo ogni intro di qualsiasi gioco. Allora signori, lo avviamo come sempre insieme per la prima volta, spero che si senta tutto perché tecnicamente ho avuto dei disguidi tecnico-tattici in passato con delle registrazioni, ma va bene così. Ovviamente faccio una prova al volo, ok, ok, funziona. Allora signori, mi sono un attimo settato le opzioni, ho messo i sottotitoli, perché non erano impostati, io farei nuova partita, non perderei ulteriore tempo. Salvataggio 1, difficoltà di combattimento, facciamo esplorazione, dai, la mira sessita è disabilitata, i nemici hanno livelli normali di salute e infliggono danni normali, la mira disabilitata, la rigenerazione della salute non è disponibile nei combattimenti, gli nemici hanno più salute e infliggono danni maggiori, i nemici sono potenziali. Io farei esplorazione, dai, prendiamocela come divertimento, avvertura, avventura, vabbè, un po' una merda, dai, esplorazione, insomma, manteniamolo sul normale, il classico, la classica cosa, è una, filmato? Devo togliere la webcam? Non lo so, comunque sei minuti. Sì. 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 E affrontare il mito. Da bambini ci facciamo domande sul mondo, impariamo, accettiamo e perdiamo la capacità di meravigliarci. Ma alcuni no. Gli esploratori che ricerca la verità, sono questi i pionieri che definiscono il futuro dell'umanità. Quegli altri non vengono. Nessuna cifra li farà andare oltre quelle vette. La città perduta deve essere lassù. Sarà un'arrampicata infernale. Io non mi tiro indietro. Lo so. Dovresti star qui, con loro. Scordatelo. Ci sei quasi. Ti aspetta una gran bella vista, Lara. Aggrappati a me. Grazie. Guarda che bello. È fantastico. Ma la neve che scende da quelle vette è un brutto segno. Il sentiero si nerpica sulla montagna. Dalla città avremo una buona visuale della valle dall'altra parte. Bene. Ma andiamoci piano. Me coglioni. C'è un vento fortissimo. Dobbiamo solo continuare a muoverci. L'abbiamo notato. Holy. Ok. Vabbè, io le ambientazioni serve che le commento. Non serve che le commento. Tuo padre sarebbe fiero di te. Speriamo. Ma sento che troveremo qualcosa. Allora ragazzi, comunque, vi invito sempre a passare sulla pagina Instagram. Link in descrizione. Bannerino tattico che compare sovraimpressione sul video ogni tanto di tanto. Intanto. Porca di quella merda. Esatto. Sono solo scivolata. Tutto a posto. Eh, tutto a posto. Speriamo. Comunque, dicevo. Questa è niente. Non posso dire l'emico... Madonna. Le reflex. Ok. Sì, parliamo con tranquillità, eh. Vabbè, più o meno sono... Vabbè, più o meno è un simile uncharted. Se un'appelli puoi scalare le pareti di roccia e ghiaccio. Quindi qua, subito. Scalata con piccozza. Uh. Ficcato. Vabbè, sì. Un po' tipo uncharted. Io ho giocato i primi due uncharted di Remastered su... Qui sempre su PS4. Che me l'hanno dati sempre quando ho comprato il gioco. Oh, ah, devo... Eh, se l'allero. Ok, tutti questi d'assi. Non li ricorderemo mai. Vai, mofra! Con quale presa incredibile e meravigliosa. Merda, Lara. Eh. Onesto. Forza. Bene. Si prosegue. Ok. Allora. Quello che volevo dire è probabilmente ogni tanto parlerò un pochino di meno in queste serie di video. Anche perché sono serie che vanno anche un po' godute. Quindi... E ve le faccio godere un pelo anche a voi. Come si corre? Ok, ancora non l'abbiamo sbloccato il tasto per correre. Possiamo rintanarci in questa grocca. Credi davvero che troveremo la città scomparsa? So che è introvabile, ma la guida con cui ho parlato diceva di aver visto delle rovine tra queste vette. Beh, direi che se dovesse nascondere una città perduta, questo posto dimenticato da Dio sarebbe l'ideale. Abbastanza, sì. Spero solo che la Trinità non sia arrivata prima di noi. La tempesta si avvicina. Abbiamo un paio d'ore al massimo. Dovrebbero bastare. Siamo quasi in cima. Io proseguo, eh. Cioè, non è per dire niente, ma... Io vado sprezzante del pericolo. Vai, Lara! Non dovrebbe cedere. Resta vicino alla parete. Non dovrebbe cedere. Da qui bisogna arrampicarsi. Occhio, potrebbe venire giù del ghiaccio. Ok. Ci sei? Andiamo! Porco schifo! Non fra... Vabbè, raga, io la webcam non riesco a togliere e metterla... con questa rapidità, anche perché è praticamente impossibile. Piano, Lara, eh. Una rapidità di estrazione di queste piccozze. Veramente clamorosa. E niente. Rip ghiaccio. Riesci a saltare di là? Ce la posso fare! Ma sì... Sì, sì, tu dammi sempre corda... In quest'idea di merda. È colpa... È colpa perché mi hai dato corda che siamo qui. Lo sai? L'importante è che tu ne sia consapevole. E la prima morte della serie è andata, anche più presto del previsto. Dove cazzo devo andare? Ok, dovevo andare qua. Ma l'ho fatto anche prima. Non come... Non ci facciamo domande. Non facciamoci domande perché poi... Non ne abbiamo risposte. Non serve. Oh, Dio. Lara! Oh, cazzo! Ti tengo! Ti tengo! Lara! Mi senti? Sì! Ora ti tiro su! Oh, merda! Là! Guarda là! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Forza, Lara! Un attimo! Eh, ho capito! Questi muri di merda! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Aspetta, aspetta, aspetta! Non preoccupare! Non mollare adesso, mortangurelli! Ok. Ok. Non è nato, non è nato, non lo scena, non è nato. Non è nato, non è nato. Torna indietro, Giona! Vai al rifugio! Merda, 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 merda! Scandala, madena! Dove, 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 dove? Dove devo andare? Dove devo andare? Ok, io tiro dritto, tiro dritto, tiro dritto. C'è una corda! Possiamo appenderci sicuramente, arrivare non so dove. L'ho fatto totalmente a random. No, 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 no! Dai, non ti ho detto di mollare! Ok. Vai, 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 vai di là, vai di là, vai di là! Ok, ok. Aspettate che capisco le meccaniche e poi ci siamo, eh! Ho capito, ma dico io no. Salta, 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 segui la roccia, segui la roccia! Porco! Aggrappati, 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 aggrappati! Mai l'inizio fu così. Traumatico, ragazzi. Io non so mai quando togliere o non togliere la... La, 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 la webcam. Mi giro il cazzo, la lascio. Due settimane prima! Ok, un salto indietro nel tempo. Londra, Inghilterra. Suppongo questa sia Lara. Lady Croft. L'aspetto più crudele della vita è che ne veniamo privati troppo in fretta. Invecchiamo, ci indeboliamo e moriamo. Ma cosa rimane di noi? Ossa? Polvere? E la nostra anima? Sopravvive alla nostra esistenza terrena? Io credo di sì. I miti e le leggende nascondono sempre un fondo di verità, ma non la verità della scienza. Qualcosa di più profondo. La chiave che porta alla vita eterna. Forse ho trovato la soluzione dell'enigma, ma non sono solo in questa ricerca. Mi sorvegliano, studiano ogni mia mossa. Ora però so chi sono. La Trinità. Un'antica e spietata setta che vuole controllare il futuro dell'umanità. Devo procedere con cautela per il bene della mia famiglia. Se dovesse succedere qualcosa a Lara o ad Anna, io non potrei mai perdonarmelo. Un'antica e spietata setta che vuole controllare il futuro dell'umanità. Lara, sono io! Anna! Oddio, scusami, davvero. Cosa ci fai qui? Ho visto che i tabloid ce l'hanno di nuovo con te. Pensavo ti servisse compagnia. Altre menzogne. Ti hanno seguita? Seguita? Certo che no. Che sta succedendo? Forse ho trovato la donna. No, non farai sul serio. La leggenda del profeta è vera. Papà aveva ragione. Lara, tuo padre, non... Stava bene. No! Stava per fare una grande scoperta. La prova tangibile dell'immortalità dell'anima. Io amavo Richard. L'avrei sposato se l'avessi chiesto. Ma era un uomo distrutto. E non voglio che tu faccia la stessa fine. No, Anna. Aveva ragione. Erano gli altri a sbagliare. La tomba è in Siria. Siria? Oh cielo, Lara, no! È pura follia! Rimetti a posto la tua vita. Torna a casa, al maniero. Sai bene che non posso tornarci. Questa ossessione ha rovinato tuo padre. Ho visto qualcosa. Qualcosa che... che non so spiegare. Ora capisco quello che ha passato papà. Sono tutte favole. Cose senza senso. Non imboccare questa strada. Sai bene dove porta. È l'unica cosa che conta ora. Troverò la tomba del profeta, Anna. Ehi. Stiamo entrando nella zona di guerra. È sicura di quello che fa? Ci siamo quasi. Dovrebbe esserci un oasi nel canyon, più avanti. Sprecca il suo tempo. Non c'è niente qui. Continui a guidare, per favore. I soldi sono suoi. C'è qualcosa che non va. Quella è... solo la milizia locale. alla faccia della milizia locale. Locale, no. Quelli pagavano più di te! Che... No! Oh, scendiamo la bocca! Merda! Non dovevano spararci addosso! Andiamocene da qui! Merda! No! 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 La retta... Certo che c'è una zella, però. Ignora che... Ignora che... Ignora che... Che ignora... Ma ignora cosa? Che vuol dire? Ignora ma... No, no, lo so. Vabbè, comunque. Mi dà suggerimenti a caso. Non mi fa capire. Ignora, no. Conferno nord-occidentale della Siria. Dobbiamo arrivare lì giù? Non vedo greve. Deve essere qui. Cerca le rovine sulle alture. Inquadrature. E niente. Potrebbe causare un problema la webcam, sto notando, perché l'inquadratura è un po' verso... Forse dovrei mettervela a destra. Le ricerche di Popà parlavano di questo posto. Si narra che la tomba del profeta fu nascosta fra le rupi sopra una delle città dimenticate. La leggenda descrive un'oasi dove il profeta venne sepolto. Allora, questi sono chiaramente degli appigli. Ok. Vabbè, forse dà qualche problemino quando camminiamo normali, perché... L'inquadratura... Tende ad andare sulla sinistra. Dove? Lì. Ok. Sali. Lara. Dai, Lara, madonna. Vabbè, sì. Forse ci sono. Ma speriamo. Io bazzico un po' l'occhio un po' ovunque, eh. No, 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 no. Che cosa fai? Che cosa fai? Dai. Entra. Volevo solo vedere cosa c'era qui al lato. Cioè, non era necessario riuscire fuori. Vabbè, proseguiamo dritti, allora. Oddio, che ho fatto? Ah, sì, ok, no. Volevo vedere un attimo se c'era, tipo... Voglio vedere se è possibile, tipo, allontanare un pochino la visuale, ma non penso mai. Difatti. Difatti no. Vabbè, mi devo abituare, non sono abituato ad avere il personaggio così vicino, quindi... è una specie di stelle. Non riesco bene a tradurre tutto quanto, ma questa parola... profeta... ci sono. Papà aveva ragione. Mappa giornata. Monolito scoperto. Esplora la sala degli affreschi. Sembra una specie di mappa, ma non riesco a leggere le scritte. Per sbloccare questo elemento, migliore a livello 1 l'abilità di traduzione del Glego di Lara. Come cazzo si fa? Non lo so. Forse tramite così. Documenti. Reliquie. Risorse. Non c'abbiamo un cazzo di risorse, ovviamente. Siria. Vabbè. Distinto di Svavvivenza. Ok. Questi sono i miracoli del profeta di Costantinopoli. Trucidato ingiustamente per mano dell'ordine della Trinità. Leggi le iscrizioni in morale per migliorare la tua competenza linguistica. Eh, ok. Quindi forse non dobbiamo sbloccare niente noi, ma dobbiamo solo... Leggere cose. Qui viene raffigurato mentre compi il miracolo della guarigione. Gli appunti di papà ne parlavano. Ah, ok. Vedi, vedi. Più leggo io freschi, più aumenta la statistica. Ovviamente voi non lo vedete perché c'è la webcam davanti. Niente. Mi sa che questo gioco con la webcam non si può quasi fare. Vabbè, comunque. Condusse i suoi attraverso il deserto, fino all'oasi. Ok, greco siamo arrivati a livello 1. Praticamente dietro la webcam c'è un bannerino che... Traduce il monolito. Competenza linguistica aumentata. Bene. Se lo faccio andare bene. Fare clic per visualizzare la mappa. Indicatore personalizzato. Usa per consegnare un elemento così sulla mappa con gli indicatori personalizzato durante il gioco. Gli indicatori personalizzati verranno visualizzati con la luce blu quando l'istinto di sopravvivenza è attivo. E' proprio quando utilizzi. Le monete antiche possono essere scambiate con i guavaggiamenti e potenziamenti. GG. GG. Allora, io ho visto che però c'era anche la possibilità di andare di qua. Ah no, di qua si torna indietro. Sono un pirla. Bisogna andare dietro di là perché di qua non credo si possa fare niente. Questo però non l'avevamo visto. Ok, intanto miglioriamo anche un pochino il greco. Di niente, ma l'abbiamo migliorato un pochino. Ok. Vabbè, si può buttare giù easy. Madonna, la luce. E la peppa. Bellissimo. Se solo papà fosse qui. Ferescola. Vabbè. Non ci perdiamo in... Indicatore obiettivo. La modalità di sito di sopravvivenza. Gli obiettivi vengono... E la parca di quella puttana. Ok, devo andare di là. Vabbè, noi passiamo di qua. Allora, la fretta non ne abbiamo. Quindi cerchiamo di non morire ammazzate. Sì, è stato il premix per rampi i gatti. Porca di quella puttana. E niente. Ah, ok. E vabbè, dovevo solo saperlo. Cioè, nel senso... Dove, 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 dove? Sopra. Ah, ok. C'è più o meno il doppio salto. Solo che è il doppio arrampico. Devo riuscire a entrare. Posso andare tranquilla? Non caschi? 0,25. Saltamo fra... Ok, 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 ok. Io premo sempre x quando arrivo qua perché non sono sicuro se aggrappia automaticamente. Prima o poi lo dovrò provare. Il problema è che non ho il coraggio, quindi. Dove cazzo dobbiamo andare? Non di qua, suppongo. Ma dobbiamo andare di qua. Ok. Un passaggio. Pensavo fosse un filmato. Eh sì, perché si... Vedi? È tornato ad essere un filmato. Dannazioni, andiamo. Porca di quella, mi sono cagato in mano. Non l'avete visto perché non c'è la webcam. Mi sono cagato in mano. Ma dove cazzo ci stiamo infilando? Dico io. Uè! Messere! C'è stata una battaglia qui. Soldati armati contro pellegrini religiosi. L'ordine della Trinità. Dono della provvidenza. Cerca ricompensa all'interno dei piccoli contenitori arancioni. Che non era arancione, ma vabbè. Vabbè, ce lo fa vedere. Forse arancione con l'istinto di sopravvivenza. Era una pantegana quella, non era un sorcio. Ok. Figlio, l'ordine della Trinità ha saputo che i seguaci del profeta stanno costruendo un'immensa tomba in nosi fuori da Beroglia. Ma la cosa più sorprendente è che mentre pensavamo che stessero costruendo la tomba per il profeta, la Trinità ora crede che sia ancora in vita. Abbiamo saputo che predica la sua eresia. Tra la popolazione locale attirando ogni giorno nuovi seguaci con le storie di come ha sconfitto la morte. È un bugiardo, un eretico, che sostiene di aver fatto miracoli che solo il divino può fare. Hai giurato che era morto? Ci hai ingannati? Addirittura ce le leggono anche. Farei prima a leggerle io. Però, chi se ne frega, ce le leggono. E noi ce lo godiamo in tutto per tutto. Ma che fare comunque? Ok. Devo proseguire di qua. Quindi suppongo che devo andare tutto in fondo, a sinistra. Qua, qua non ho niente da fare, suppongo di no. Siamo sempre accorti. Nel caso non voglio... Mamma mia, non voglio... E spara. Colpisci i punti deboli delle strutture per disurgere le trappole e spezzare i collegamenti con le corde. Non era questo. Era quello. Ma allora ce l'abbiamo la pistolina. Vabbè ragazzi, io la webcam, quando mi stanno filmati, ve la tolgo a sentimento. Meglio tenere sempre d'occhio la recca, eh. Perché non voglio farvi video troppo lunghi, ma... Ho già 40 minuti di registro, quasi. Ah, capuzola. Mmm. Questa vecchia piattaforma. Ah, ok, con la pistolina. Perfect. Ma per adesso andare dove? Dovrei remare in qualche modo. Ah no, forse ho capito. No. Cosa cazzo devo fare? Ma allora non serviva a staccare la piattaforma. Ah no, forse sì, perché adesso devo sbrig... Devo sbrigarmi ad andare sulla piattaforma. Ok, 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 ok. C'ha senso, c'ha senso. C'ha senso. Bastava trovarlo, è il senso. Ok. Trappola. Mamma mia, mi pareva di averlo preso già prima. Nuota, 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 Lara, nuota, Lara, nuota, nuota, spicciate. Ah, cerchio, non X, eh, quando cazzo me lo dici. Ah, scella, che zitta. Porca puzzola. Incredibile, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati. Raggiungi la somminata della sala principale della tomba. Signori, allora io concludo qui questo primo episodio di Rise of the Tomb Raider. Deve vi lasciare un like, un commento e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo nel secondo episodio. Quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per non perdervi anche questa serie ennesima che stiamo portando qui sul canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.